Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonoSport07 Allora ragazzi siamo qui per parlare dell'acquisto di Ken che è ufficiale Potete notare anche dal mio umore che non è perfettamente l'ideale degli umori Io sono contento di Ken perché comunque è un bel attaccante, mi piace Formiamo anche la coppia Caio-Ken con Caio-George Però alla fine quando ci vai a pensare che hai sostituito Ronaldo con Ken Indubbiamente ti sei indebolito, la Juve finale di Ronaldo mi era piaciuta sul calciomercato Ma ora ci arriviamo perché non è colpa della società Mi era piaciuta, nonostante comunque dei movimenti molto a rilento E' un mese per portare Locatelli, gli unici acquisti sono stati praticamente Locatelli Caio-George e ora Ken perché senza di essi, vabbè poi hai preso Iattar e ne l'hai dato in presto però Senza di essi gli altri due acquisti sarebbero gli altri quattro che tornano in difesa Ovvero Perin, Rugani, Luca Pellegrini e De Sciglio A questi quattro che sono praticamente dei rientri Tra cui rientro è solo quello di Luca Pellegrini perché Perin, Rugani e De Sciglio erano i suberi Forse Perin un po' meno ma Rugani e De Sciglio si Hai mandato via praticamente Buffon e ti sei preso Perin e fin qua ci sta Hai mandato via in prestito Frabotta e torna Luca Pellegrini e fin qui ci sta Nulla di nuovo, Buffon non è tanto più forte di Perin Parlo del Buffon di ora, cioè tra i due non c'è tanta differenza Anche perché è un ruolo quello del secondo quartiere Così come quello del comprimario di Alexandro Uno vale Frabotta come vale Luca Pellegrini dal mio punto di vista A destra praticamente è tornato De Sciglio così dal nulla senza rimpiazzare praticamente nessuno Con la differenza che ora c'è più libertà su quella fascia per quadrato di spostarsi più avanti Perché tanto dietro ci sono Danilo e De Sciglio Poi, a centrocampo è venuto Locatelli e non è stato mandato via nessuno Se non fagioli in prestito che sinceramente neanche avrei dato Io avrei proprio svincolato Ramsey Cioè ragazzi è solo, secondo me, è solo stipendio rubato L'avrei offerto, fa un culo le minuis valenze Perché veramente di Ramsey non ne potevo più Cioè almeno andare a risparmiare secondo me dopo Poi non so esattamente come funzionano queste cose Però se per il fatto della minuis valenza ragazzi Io trovo veramente inaccettabile che un club non possa mandarvi un esubero Magari in stile FIFA Cioè farvi capire perché Ramsey e io per non fare minuis valenza Lo devo vendere per forza da 15 milioni in poi Cioè se lo vuoi vendere di meno lo venda di meno Non è che voi mi devi mettere le penalità Se quello è scarso e non so prendere nessuno Che è colpa mia Io Ramsey l'avrei regalato Due, tre milioni di euro Che ne so, anche cinque Però l'ingaggio solo cagassero loro Cioè capito Io avrei risparmiato nell'arco di un anno Perché avrei dato sette milioni a Ramsey Invece mi topo quei sette milioni che guadagno E mi prendo cinque milioni Per farvi capire ragazzi Cioè E poi veniva un centrocampista Qualsiasi Cioè Locatelli praticamente sarebbe andato a rimpiazione Ramsey E poi veniva Pjanic Che praticamente veniva anche a zero Siamo stati agevolati il più possibile nella trattativa Il Barcellona ha speso 60 milioni E niente Quindi insomma Il problema è che quando tu ci pensi Ronaldo è uno che disegnava di destra, di sinistra e di testa Io l'avrei mandato via, è vero Ma l'avrei mandato via all'inizio Non alla fine perché te lo dice lui Con tutto il rispetto E Comunque Secondo me Tra i 30 milioni che ti dà lo United Che vabbè Sono 23 con i bonus Non sono 30 Perché sono 15 Pagabili in 5 eserci Pagabili in 5 rate Più 8 di bonus Però voglio risparmiare sui 30 dell'ingaggio Io mi sarei buttato a capofitto su Rashford Avrei trovato una modul Un qualcosa Perché a me Rashford ragazzi Piace da matti Ma proprio da matti E E quando mandi via Ronaldo È inevitabile che un top player Che ne so Un Bappé Oland Del suo livello deve venire Ma se mandi via Ronaldo Per prendermi Ken Capito Non torna molto alla situazione Io spero che questo aumento di capitale Faccia cacciare veramente tanti soldi Alla società Perché ne abbiamo bisogno Io questa rosa non vedo bene E non vedo un'ala sinistra Perché ci puoi mettere Bernardeschi Chiesa e Pulisensky Ma sono tutti e tre adattati Perché loro giocano a destra Inoltre a destra Può giocarci anche Di Bala In un 4-3 Perché a questo punto Mi viene da pensare che il modulo è 4-4-2 Perché se vuoi usare il 4-3 E vuoi usare Di Bala a punta E quindi non Di Bala alla destra Se usi Di Bala a punta Poi Morata, Ken e Caio George Dove li metti? Capite ragazzi? Dove li vanno a mettere Morata, Ken e Caio George Tutti e tre in panchina? Cioè praticamente Morata Le riservate Di Bala, Caio George Quindi non lo so se ora Caio George e Ken Potrebbero andare a fare le ali sinistre Non lo so Ciò che so io È che se Di Bala va a fare l'ala destra Chiesa, Kurisensky, Bernardeschi, Quadrato Non vedono il campo O quantomeno se lo vedono Devono spostarsi a sinistra E adattarsi lì Tutti Tranne Quadrato Quindi insomma raga Io vedo in un 4-3 ipotetico Il ruolo ideale di Di Bala è l'ala destra Il ruolo ideale di Kurisensky L'ala destra Di Chiesa l'ala destra Di Quadrato l'ala destra Di Bernardeschi l'ala destra Cioè di ruolo Abbiamo 5 ali destra In un 4-3 Perché Di Bala È una seconda punta La 3-5-2 Un trequartista La 4-2-3-1 Che può essere l'altro modulo A questo punto Il 4-2-3-1 Perché se non gioca Di Bala Secondo me lì ci può giocare anche Ramsey Ragazzi E sulle fasce A questo punto Ci puoi adattare Con più libertà Tutti gli altri Però Mi sembra che ci sia Per forza Sto cazzo di ticket Per giocare a destra E come se non bastasse È intasato anche La fascia di Terzini Perché A destra Terzini abbiamo Daniel De Sciglie Quadrato Cioè capito E a destra abbiamo Troppi uomini Secondo me Dobbiamo spostarne più a sinistra Ecco perché mi viene da pensare Che faremo il 4-4-2 Quindi Vedo troppa disorganizzazione Neanche Allegri Secondo me può curarla E questa disorganizzazione A meno che venga Un grande acquisto A gennaio Ce la porteremo Per tutta la stagione E ne sono sicuro di questo Io credo veramente Che la Juve giocherà Con due punte Quindi io con un 3-5-2 Con Danilo Terzo di difesa A questo punto Quindi ho con un 3-5-2 Ho con un 4-4-2 Io credo Che sarà così Ragazzi Poi non lo so Venetemi a dire Quale che volete Però io Non credo proprio Che la Juve Quest'anno Giocherà a 4-3 Come previsto Se giocherà a 4-3 Devi adattare Qualcuno a sinistra E sinceramente Mi pare un po' Una buffonata Tra virgolette Con tutto il rispetto Quindi credo Che la Juve Gira con un 4-4-2 O con un 3-5-2 Ma non con un 4-3-3 Fatemi sapere Come la pensate ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Dimmi da lasciare Mi piace Casimo Contrare un dislike Commenti Se siete d'accordo Se siete d'accordo Con me Se non l'è ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Il link Presi che mi sono in Instagram Domani Sporzio Sette è tutto E noi Ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi